ah in angolo da Bonazia l'altra ex della partita Bonazia scarica per l'altra ex che è Ashley Ravelli si alza da 3 punti Ashley Ravelli Dall'altra parte Ravelli da 3 la tripla del Capitano Il postato di Ravelli da 3 è l'altra tripla Bonazia cerca la linea di fondo scarica sulla sull'arco per Ravelli che trova la tripla Ancora Orzili Cercare Ravelli Ravelli da 3 il Capitano Allora è recuperato da Jeffrey Bonazia Che apre dall'altra parte per Ravelli che perde la tripla Quinto spazio anche per tentare il tiro torna il pallone proprio dalla numero 9 e si alza poi Ashley Ravelli E' bellissimo Non si è fatta battere facilmente è stata costretta a fare un altro step back Quindi tanto grande canestro di Ashley Ravelli 5 secondi alla fine del periodo Orzili si butta dentro lo scarico per Ravelli Il tiro sulla chirena è la tripla di Ashley Ravelli E' bellissimo E' bellissimo Grazie a tutti